Il vice sindaco di Castellabate Luigi Maurano ha incontrato il coordinatore del piano di zona Salerno 8 per evidenziare le criticità delle politiche sociali, chiedendo il massimo impegno affinché alle fasce più deboli vengano riconosciuti e garantiti diritti all'assistenza e alla cura. Il coordinatore, ha dichiarato Maurano, ha evidenziato le difficoltà che riscontra a causa della morosità di alcuni comuni che non versano puntualmente le quote stabilite. Tra questi c'era anche il comune di Castellabate per un importo superiore ai 140 mila euro. Come amministrazione da subito abbiamo dato rassicurazioni in merito alla puntualità nell'erogazione delle risorse che serviranno per colmare questa mancanza, continua il vice sindaco. Così il 13 ottobre il comune di Castellabate ha trasferito al piano di zona Salerno 8 la somma di circa 50 mila euro, quale arretrato della quota di compartecipazione annualità 2015-2019. Il 19 ottobre abbiamo trasferito altri 20 mila euro in riferimento all'annualità non pagata del 2020. Entro il 30 novembre verseremo altri 20 mila euro. A fronte del nostro impegno finanziario per le politiche sociali del piano di zona Salerno 8 abbiamo proposto di destinare tali somme al pagamento delle 12 mensilità del 2020 per i residenti del comune di Castellabate rientranti nell'elenco dei gravi del progetto assegno di cura, finora esclusi da qualsiasi forma di aiuto. Per tale motivo insieme all'assessore alle politiche sociali Mariana Carbutti abbiamo inviato una nota al coordinatore del piano di zona Salerno 8 per ufficializzare la richiesta auspicando che tale azione possa essere riproposta per tutti i comuni facenti parte del piano di zona Salerno 8.